buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di tg plus per oggi 28 giugno 2023 partiamo subito con padova il mattino di padova titola un po con tutto il gruppo comunque lo diciamo una volta solo a voti abbassati gli sparatori ma poi questa è una notizia che troveremo un po dappertutto pensioni e bonus fiscali sarà un luglio con più soldi quasi un padovano su due avrà a disposizione più liquidità previsto un aumento per le minime in arrivo le quattordicesime i sindacati serviranno solo a far fronte all'inflazione naturalmente i sindacati sono un po pessimisti vedete qui messina nuovo prefetto di padova è stato direttore dell'anticrimine e nella fotonotizia operato di tumore al cervello da sveglio il racconto in diretta della nuova chirurgia a selvazzano cade il sindaco e arriva il commissario altra notizia che troveremo un po dappertutto via libera la riforma del codice della strada e il commissario per l'alluvione la scelta cade sul solito figliuolo il gattamelata malato basamento friabile e fuori di proiettile pure questo hanno trovato sul gasettino vedete che il titolo che proprio impera sul gasettino è alcol e droga via la patente nuovo codice della strada fino a 30 anni senza guida per recidivi e assassini pirati svolta a banca italia panetta al posto di visco e figliuolo commissario alla ricostruzione sono i titoli diciamo di carattere nazionale ad agodo invece c'è stato il ricordo di del vecchio un anno dopo ci ha fatto sentire speciali lo dicono un po tutti i dipendenti collaboratori ma poi lo troveremo anche su altri giornali spari contro la prof abbassati i voti in condotta ma promossi scrutini di fatti dopo l'altro la del ministro dal 9 si è scese a 6 a 7 si sono stati promossi sinceramente io non personalmente non vedo l'utilità di questa cosa ma se non altro come monito e come esempio può starci scrutini di fatti voti più bassi i bulli questo è proprio il titolo del corriere del veneto e il titolo che con cui apre il giornale veneto della della pagina del corriere la preside dell'istituto viola mette insomma avevano come avevamo noi avevamo commesso un errore ma restano promossi c'è l'ipotesi di un furto finito male invece nell'anziana uccisa a conegliano e terzo mandato in regione assist di salvini a zaia dice se uno è bravo è giusto e poi vedete anche un'altra notizia che troviamo un po di qua un po di là due giovani su tre vivono con i genitori le nozze a 38 anni ci si sposa e qui c'è la foto notizia dei 2000 ad agordo per ricordare del vecchio troppe assenze stretta sui permessi qui si parla di actv andiamo a vedere la pagina di padova di notizie plus il nodo della stazione interessata all'arrivo dell'alta velocità è partita anche qui tutta andiamo magari a vedere all'interno vedete l'incontro tecnico in municipio tra i progettisti di rfe italferra e i dirigenti tecnici se ne parla di questa cosa e poi ci sono le altre notizie 1087 volontari hanno raccolto 10 tonnellate di rifiuti pergamena sigillo cittadino e discendenti di maria pitarello e sarà letizia piras e poi c'è una notizia di carattere regionale che troveremo anche in altre pagine sempre del nostro portale per oggi è tutto dalla pagina di padova